Musica Ben trovati con l'edizione di Stadio News24 dell'Isalo Piccolo. Tre punti pesanti, importanti e che potrebbero dare lo sprint finale al Palermo per approvare a centrare l'obiettivo della Serie A dall'ingresso principale. Pazza partita liberati di Terni, sabato sera e Rosa Nero si impongono per tre reti a due ma per larghi tratti del match hanno dominato. Gara praticamente chiusa nella ripresa 0-3 con le firme di Lagumina che mette a segno una doppietta e Rolando, i migliori in campo. Sembrava finita ma un'eccessiva rilassatezza ha fatto tornare in gara la Ternana che ha anche sfiorato nel finale il clamoroso pareccio. Il Cesena centra una clamorosa rimonte ai dieci uomini e danni del Parma e così tiene aperta la corsa al secondo posto. I Ducali adesso si trovano a 67 punti con il Frosinone che invece sale al secondo con la vittoria di misura sul Carpi quindi quota 68 e il Palermo che si porta in terza posizione a quota 67. E il finale di campionato a questo punto si preannuncia a quanto mai appassionante e nella prossima giornata il Palermo riceve il Cesena ora vicinissimo questo alla salvezza mentre il Frosinone dovrà sfidare in trasferta Lentella che ha senorato Aglietti mentre il Parma affronterà in casa il Bari. È tutto per questa edizione ed è risolto al piccolo punto vento alla prossima. Grazie a tutti.